Aveva creduto fermamente negli ideali della flotta. Ora che ai primi capelli grigi gli rigavano le tempie, era diventato un ufficiale che faceva il suo dovere. Erano ancora loro i buoni, che difendevano la libertà di popoli alieni. Qua fuori esiste la Federazione Unita dei Pianeti, un gruppo di tante, tantissime razze che si sono aggregate, lavorano e vivono insieme, creando qualcosa di unico. Ogni razza è preziosa e inserita all'interno della sua testa. Quanto aveva diviso con data? Aveva creduto in lui quando il suo sviluppo, la sua recherche, per usare un termine caro al vecchio scrittore francese Proust, era solo agli inizi. L'aveva accompagnato nel sucri. Stabilirsi in una colonia ha il pregio di far vivere secondo i ritmi di una natura non del tutto controllata. Non è il paradiso del sistema 001 e di tantissimi pianeti della Federazione. Quando lui le fu di fronte, sollevò l'elmo in alto, mostrandolo un'ultima volta a tutti. Oggi ricevi il tuo elmo, Din Djarin. Oggi diventi mandaloriano. A presto. A presto. Grazie a tutti.